Si è rivelata un grande successo l'apertura straordinaria del Museo Storico della Liberazione. 800 visitatori registrati, provenienti da tutte le parti d'Italia e non solo. Su registro si leggono infatti i nomi di ospiti persino dalla California, dalla Germania e dall'Inghilterra. Un viaggio nella storia, sia locale che nazionale, quello che i visitatori hanno fatto con interesse e partecipazione, attraversando le stanze del museo, riaperto dopo 5 anni, proprio in occasione della ricorrenza del 25 aprile. Le stessali di Palazzo Guinigi raccolgono memorie e cimeli legati alla liberazione, al sacrificio delle donne e dei sacerdoti, ma anche piccole suppellettili, come le prime bottiglie di Coca-Cola portate dagli americani, pacchetti di cioccolata, schiuma da barba e gavette. Moltissimi documenti esposti nelle vetrine a raccontare storie di piccoli e grandi atti di coraggio contro la violenza vissuta durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono anche le urne che conservano le terre della memoria, come quelle di Sant'Anna di Stazem e Marzabotto, e una barriera di ferro e filo spinato proveniente dal campo di concentramento di colle di compito. Particolare interesse, poi, è stato riscosso dalle storie nostre, come quelle dei partigiani del gruppo Valanga, dell'undicesima zona di Donaldo May e delle decine di lucchesi rastrellati e fatti prigionieri in Germania. Intanto, il direttivo del Museo Storico della Liberazione ha deciso di accelerare il lavoro di inserimento dell'archivio sul proprio sito, al fine di permettere a tutti di percorrere questo viaggio storico, civile e culturale.